Puntata speciale di Polifemo dedicata ad un evento che si sta celebrando a Leporano in occasione della giornata internazionale della donna, la lotta contro la violenza sulle donne e il rispetto assoluto della donna, l'inaugurazione di una panchina molto significativa tinteggiata di rosso, già il colore fa comprendere le violenze che le donne hanno subito, è una scritta molto significativa che inneggia all'amore vero l'istituzione di un numero, il 1522, per segnalare i vari casi di violenza e poi è molto importante anche la pergamena che è stata distribuita alle donne, la forza delle donne infatti è proprio il titolo, la denominazione dell'evento che si sta celebrando, la pergamena reca la scritta, la forza delle donne, a tutte le donne che in questo periodo storico hanno sempre sostenuto grandi sacrifici impegnandosi attivamente senza sosta nell'ambito della famiglia, della cultura, della politica e del lavoro, a loro rivolgiavo il nostro grazie, auguri a te donna speciale e questo è il modo in cui l'amministrazione comunale di Leporano vuole festeggiare la giornata internazionale della donna 8 marzo 2021. Più a una società migliore e a un'attenzione sempre più consapevole alla bellezza del genio femminile in mezzo a noi, preghiamo. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicuro. E' questa la scritta che è stata posta sulla panchina simbolo, una iniziativa per combattere la violenza sulle donne ed inneggiare all'amore quello vero, un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Leporano in occasione della giornata internazionale della donna. Sindaco, una grande sensibilità da parte della collettività da lei retta. La festa della donna è ogni giorno, la donna va rispettata ogni santo giorno, ma questi simboli, questi elementi hanno una loro valenza plastica. Certo, l'hai detto bene Luigi, la festa della donna dovrebbe essere ogni giorno perché se riflettiamo che la donna ci ha donato la vita non si può pensare di usare violenza nei confronti di chi ti dona la vita. Noi abbiamo voluto fortemente questa iniziativa che come sai in tanti comuni d'Italia è stata intrapresa e abbiamo voluto posare qui in questa piazza questa panchina che vuole in un certo senso stimolare a riflettere, a riflettere sulle nostre azioni e quindi hai visto quella frase, ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura. Ci sono purtroppo tanti... Ha scritto una specie di Frida Kahlo. Frida Kahlo, sì, come tu ben sai purtroppo ci sono tante situazioni in cui la donna viene maltrattata fino a situazioni di gesti estremi nei confronti della donna. Noi abbiamo voluto posare questa panchina qui in questa piazza proprio per stimolare la riflessione affinché questi episodi di violenza nei confronti delle donne non accadano. Una realtà che sta davvero raggiungendo vertici, una crescita esponenziale di violenza soprattutto domestica. Sì, purtroppo sì, gli episodi di violenza domestica sono in forte aumento e noi nel nostro piccolo abbiamo voluto sviluppare questa sensibilità, invitare i nostri concittadini a riflettere. Magari guardando questa panchina qualcuno può riflettere sulle sue azioni e quindi possiamo cercare di fare in modo che questi episodi si riducano sempre di più. che tutte le nostre sorelle sia quelle purtroppo che hanno sacrificato la loro vita nel nome di chi pensavano di amare e di essere amate e soprattutto anche... L'Avvocato Angelo D'Abramo, Presidente del Consiglio Comunale di Leporano, una iniziativa, una panchina che parla da sola, con quella scritta e con quegli occhi effigiati, proprio a testimonianza di un bisogno di protezione ma anche a testimonianza del coraggio che bisogna avere nel difendere le donne e nel coraggio che le donne devono avere di denunciare. Le donne e chi assiste a episodi di violenza? Quel viso espressivo su quella panchina la dice lunga, su quello che è l'espressione femminile e il modus di essere donna. Noi comunque come Consiglio Comunale ma come amministrazione in generale siamo vicini alle problematiche della donna, in particolare a quelle relative alla violenza e quindi bisogna sempre rimarcarle e essere presenti e trasmettere questi valori di antiviolenza o di non violenza contro le donne attraverso le istituzioni. È importantissimo essere sempre presenti, essere sul campo e soprattutto al centro della piazza e anche nelle zone periferiche, sempre presenti a fianco delle donne. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Vogliamo ricordare anche le sorelle che non ci sono più perché il Signore doni loro la gioia della beatitudine eterna nella gloria del suo regno. Monsignor Pasquale Morelli, parroco della Chiesa Maria Santissima Immacolata di Leporano, lei ha benedetto appunto questa panchina, il ruolo della donna, non dimentichiamo mai, Maria, mamma di Gesù. È un'iniziativa molto bella quella che è stata promossa sul nostro territorio, che trova il pieno applauso della intera comunità, soprattutto la nostra cristiana, perché sappiamo quanto il Signore abbia valorizzato il ruolo della donna scegliendola per l'atto dell'incarnazione, come ricordava lei nella domanda, appunto nella figura di Maria. Nella Vergine Santissima Dio ha voluto onorare tutte le donne come madri, coloro che sono le depositarie del dono della vita e come figure importanti comunque nella vita dell'uomo, della famiglia, perché sono spose, perché sono sorelle, quindi persone che condividono aspetti importanti. Purtroppo la società testimonia ancora una scarsa sensibilità a questa bellissima realtà del mondo femminile. Per questo questa iniziativa risulta essere un proponimento, un impegno anche da parte di tutta la nostra comunità, a saper valorizzare il genio femminile, ovviamente come dono da parte di Dio, ma anche come ricchezza per quanto riguarda la società. Il colore rosso di questa panchina che abbiamo voluto simbolicamente benedire è il colore che ricorda anche il sacrificio di tante donne che purtroppo continuano ad essere vittime di pieghe maschiliste che nella nostra società sono ancora presenti. Noi ci auguriamo e auspichiamo che questo segno possa essere un segno di attenzione ma anche di sprone alla valorizzazione della figura femminile perché possa avere il suo giusto ruolo all'interno della società, della vita sociale appunto come all'interno della stessa Chiesa per esprimere quella che è la bellezza e la ricchezza interiore che Dio ha donato a queste nostre sorelle. Grazie. Vincenzo Zagaria, vice sindaco di Leporano, nonché assessore ai lavori pubblici, è una iniziativa forte, una iniziativa per sensibilizzare la coscienza, le coscienze al rispetto della dignità della donna e anche alla forza di denunciare. Sì, io vorrei iniziare con una cosa importante, la festa della donna è ogni giorno, non è domani. Poi vorrei concentrarmi sulla panchina in sé per sé, la panchina rossa e il posto strategico che è stato scelto da parte della comunità. È importante perché sensibilizzare, sensibilizzare soprattutto i ragazzini, i giovani e poi è importante che quando ci siano queste situazioni veramente devastanti in una famiglia è bene denunciare e mi raccomando denunciate. Grazie. E possano con la loro ricchezza di doni essere un dono e una presenza sempre attenta ai bisogni della società. Per Cristo nostro Signore. Amo. Il Signore sia... La dottoressa Yolanda Lotta, assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Leporano, tante iniziative sue e nella veste istituzionale e nella veste sociale. Una giornata oggi importante, una panchina che non è solo uno strumento, uno strumento fisico, ma in questo senso ha una valenza morale particolare. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di diversificare questa giornata, questa commemorazione. In che modo? Dato che non si può fare assembramento, abbiamo voluto dare, donare alla nostra Leporano una panchina e metterla proprio al centro della piazza di Leporano dove c'è una frase forte, una frase dove devi dare alito alle persone che ti amano, che ti vogliono bene. Nella panchina abbiamo messo anche un numero, un numero istituzionale, il 1522, dove ogni donna si può rivolgere in caso di maltrattamento. Ma tutto questo anche nel calendario che abbiamo voluto portare avanti, si prevede uno spettacolo in streaming dove stasera ci sarà Trittico Rosso a cura della Satirion per l'archeologia di Leporano, è uno spettacolo sulla diversità, ma poi abbiamo anche voluto donare a tutte le donne una pergamena, ricordo di questo giorno, con la forza delle donne, dove in questo periodo di pandemia che hanno attraversato le donne, che si sono ritrovate chiuse in casa, che hanno avuto questo problema di stare a contatto sempre con gli uomini, ci sono stati parecchi, ma parecchi, più maltrattamenti e femminicidi. E noi proprio in questa pergamena vogliamo far capire a tutti che la donna è un valore, è un valore aggiunto. Poi in streaming, sempre con l'assessore Galeone, abbiamo voluto proprio considerare con la Lilt, con la presidenza della Lilt, le prevenzioni per le donne, ma anche la donna, ci abbiamo voluto abbracciare le donne in tutti i ruoli, in tutti i campi. Vorrei soltanto spendere una parola per questo momento molto bello, l'ho già dato nelle interviste che sono state fatte, è un'iniziativa molto bella e significativa quella che è sorto sul territorio nostro di Leporano, che era già stata presente in tante piazze d'Italia, con iniziative anche similari che si sono volute creare. Ma è un segno, perché nonostante tutto, ecco la parità cosiddetta non raggiunta ormai da parecchi decenni, denotiamo tuttavia che ci sta ancora una grande disattenzione nei confronti del mondo femminile, soprattutto ci preoccupano sempre... Elena Galeone, assessore alla pubblica istruzione del comune di Leporano, l'importanza che certi valori, la difesa della donna, la tutela della dignità della donna, già, come dire, maturino in tenera età. E' quindi un ruolo importante proprio già nelle scuole. Proprio così, oggi si parla di tutela della donna, di violenza sulle donne in tutti i settori, ma in questo momento è importante parlarne soprattutto nelle scuole, lì dove nasce l'educazione, lì dove parte il concetto di rispetto delle donne. La donna deve essere rispettata sempre, ce lo diciamo ogni giorno. Sulla panchina abbiamo voluto scrivere proprio quella frase, meriti un amore che ti faccia sentire sicura. Io voglio dire a tutte le donne, denunciate nel momento in cui l'uomo non vi rispetta. La violenza sulle donne non deve essere soltanto la violenza fisica, ma dobbiamo concepire violenza anche quella verbale, quella in tutti gli aspetti. Quindi chiamate il 1522 nel momento in cui vi rendete conto che il vostro amore non è ricambiato o soprattutto non è rispettato. La comandante del corpo di polizia municipale, Rutigliano, una testimonianza forte, anche la sua come comandante del corpo e come donna. Beh certo, diciamo che la donna negli ultimi anni ha saputo farsi valere. La donna è forte, caparbia e testarda. Capita molto spesso però che per paura non si denunci. Quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di far trovare il coraggio a piene mani alle donne che subiscono maltrattamenti in famiglia per evitare che la violenza e quindi i femminicidi continuino. Quindi dobbiamo far trovare il coraggio a loro di poter denunciare, denunciare e denunciare senza aver paura di ciò che magari potrà accadere in futuro. Dobbiamo rendere merito alla signora Elena Franchini che è l'artista che è appunto dipinto, ha tinteggiato di rosso la panchina, recante la scritta già menzionata, ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, un'espressione appunto di Frida Calo ed è rappresentato anche il numero cui chiamare, il 1522. Sì, ho scelto una frase di un artista, anch'essa una donna, che appunto ha lottato a lungo durante la sua vita, quindi è stata una scelta non casuale. Accanto ho rappresentato lo sguardo di una donna, simbolo di tutte quelle donne che appunto non devono temere, non devono avere paura di farsi avanti e chiedere aiuto. Sulla panchina vi è anche il numero, e ci sono tutti riferimenti appunto tali per poter contattare in caso di emergenza. È stato realizzato grazie alla induzione anche di alcune donne della amministrazione ed appoggio ovviamente del sindaco e di tutti gli altri collaboratori. Danilo II, consigliere comunale di Leporano, delegato ai servizi sociali, sarebbe un ambito appunto che lei affronta ogni giorno e quindi l'aspetto sociale in questa battaglia per la difesa della donna è più che mai attuale. Buongiorno a tutti, sì, questo è un momento, un'iniziativa bellissima. Grazie alle donne della nostra amministrazione siamo riusciti a portare anche nel nostro comune questo piccolo gesto che mancava. Le donne sono molto importanti nella nostra comunità e devono essere sempre difese e tutelate. Ormai sono entrate a pieno regime nel mondo anche lavorativo, in tutti i settori, quindi dobbiamo tutti insieme cercare... Portare avanti questa battaglia, ma mi permettono, ecco lo sottolineo... ...di sentimenti negativi che si sentono tutti i giorni. Ecco, l'ho già sottolineato, il coraggio di denunciare. Bisogna avere il coraggio di denunciare, io con la mia delega ai servizi sociali molte volte ho avuto dei confronti con alcune donne e sono riuscito anche a convincerli a denunciare le violenze che subiscono, anche con dei piccoli gesti, con le parole che bisogna comunque sempre... Sono più subdole anche di quelle fisiche. Bisogna sempre denunciare, è quello che dico io sempre a tutte le donne. Noi ci auguriamo che nella nostra piccola ma vivace realtà di Leporano le donne siano sempre di più valorizzate e che il loro genio, come ho ricordato ormai più volte, possa essere ricchezza per tutto il tessuto sociale, per le famiglie, per la realtà con la quale noi siamo. Grazie di vero cuore per avermi anche invitato a sindaco a vivere insieme con voi questo momento e per la significatività anche religiosa dato al momento con il dono della benedizione di Dio. Siamo ora con la dottoressa Perla Suma, presidente provinciale di Taranto della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ci sono le figure istituzionali ma è importante la partecipazione della società civile. Lei è stata anche consigliera di parità della provincia di Taranto. Un grande impegno in questa lotta contro la barbarie nei confronti delle donne. Sì, ma oggi non ricordiamo soltanto le donne vittime di violenza, ma ricordiamo anche le donne che sono state violentate dal cancro. Fatemi dire questa parola così importante perché sono state vituperate in quello che è l'aspetto fisico, l'aspetto morale ed è per questo che noi oggi le vogliamo ricordare. Vogliamo ricordare chi non ce l'ha fatta ma chi anche oggi combatte quotidianamente per poter affrontare la battaglia contro il cancro. Di cancro si può guarire, basta fare prevenzione, basta rivolgersi agli enti, all'associazione, alle istituzioni che si occupano di prevenzione affinché questa terribile malattia possa essere debellata. Ed è per questo che oggi noi ringraziamo l'amministrazione comunale di Lavorano e anche l'assessore Lotta per questo significativo impegno nei confronti delle donne e di tutti coloro che credono in queste battaglie, battaglie sociali, battaglie fisiche, battaglie anche morali che le donne affrontano. Ed è per questo che vogliamo ricordarle con semplicità, con attenzione e con amore verso di loro. Quindi una parità che ci vogliamo conquistare e che ogni giorno vogliamo mettere al servizio della società.